Ragazzi buonasera e ben ritrovati sul mio canale e niente volevo solamente mostrarvi il mio nuovo setup il mio nuovo sfondo per i prossimi vlog un vlog in particolare che non è proprio un vlog in realtà è una presentazione del mio setup foto video cioè come faccio, come creo i miei video, con quale attrezzatura con quali software e con quale computer portatili, fissi, quello che sia, illuminazioni tutto ciò che fa l'insieme del foto video editing da parte mia che poi è un video editing più da vlog, da travel vlog che da videomaker in particolare quindi sarà in programmazione questo video ci sarà prossimamente una presentazione dell'attrezzatura e dell'aggiornamento della mia attrezzatura nel frattempo questo è il mio setup, è il mio sfondo il mio green screen che in realtà non monto perché è inutile montare un green screen quando io ho già i led verdi quindi va bene così è un green led ragazzi era solamente per un breve e veloce saluto domani è ferragosto vi auguro buon ferragosto a tutti quanti io non credo che vloggerò perché domani è pausa per tutti e quindi niente prossimo appuntamento è appunto con il prossimo video sull'attrezzatura foto video a chi interessa questo tipo di discorsi a chi non interessa ci sarà un altro video più in là più divertente e meno rompi box ragazzi buon proseguimento buon ferragosto a tutti quanti mi raccomando mangiate divertitevi bevete con moderazione e torniamo a casa belli sorridenti ciao